E per quanto riguarda le problematiche relative ai ristori legati ai codici Ateco, un caso emblematico è quello di un esercente di Empoli per quanto riguarda il settore bar ma anche panetteria, una storia molto particolare. Vediamo. Siamo arrivati ormai a un momento di profonda crisi, possiamo dire usando una bella metafora veramente in ginocchio, insomma la situazione è veramente grave. Una pandemia che ha messo a dura prova molti esercenti, oggi a quasi un anno di distanza, chi ancora è in piedi come il signor Panchetti deve fare i conti con l'ovvio poco giro della clientela. Regole altalenanti che non lasciano spazio a programmazioni future e ristori pressoché assenti, colpa anche di codici attività che tagliano fuori anche chi di fatto non riesce a lavorare. Noi abbiamo un codice Ateco prevalente che è quello della panificazione, però abbiamo anche varie attività secondarie come quella del locale dove siamo adesso che praticamente non hanno diritto a nessun tipo di ristoro. Ma abbiamo le limitazioni della somministrazione che sono attuate in questo periodo. Che calo registrate? Nel 2020 abbiamo fatto un conto con i consulenti, siamo arrivati all'incirca a un 50% di calo del fatturato. Situazione critica che senza aiuti spezza le alle alla speranza. L'unica cosa che abbiamo avuto sono stati i 2.000 euro del fondo perduto a giugno e 1.200 euro io e 1.200 euro mia sorella che siamo soci del panificio. Quindi 4.400 euro, 2.200 euro a testa in un anno diventa veramente difficile. Noi abbiamo famiglia, insomma è impossibile continuare ad andare avanti così. Di asporto non si campa pensando anche ad una struttura che non era programmata per questo. Si riduce il personale al minimo lasciando un lumicino di speranza per il futuro. Noi siamo a questo punto il numero minimo di persone che servono per poter mandare avanti le varie attività che abbiamo. Per il personale rimasto, casa integrazione. Per gli altri purtroppo è arrivato lo stop al rinnovo. In circa un 35% del personale non abbiamo rinnovato i contratti. Pensando poi alla venuta dei nuovi DPCM. Le restrizioni non vorrei che fossero date soltanto dall'impulso del momento ma fossero veramente ponderate per le dinamiche attuali.